Ciao ragazzi, oggi soltanto un breve annuncio, però un annuncio molto molto importante perché sono qui per invitarvi, amici di Roma soprattutto, ad un evento live dal vivo dove potremo incontrarci e scambiare quattro chiacchiere, non solo prima e dopo se ci si becca insomma ci si conosce molto volentieri, ma anche durante l'evento stesso perché si tratta del premiere al cinema del mio documentario Se io non dimentico un documentario girato interamente con Xiaomi 14 Ultra, chi mi segue già lo conosce l'ha conosciuto sotto altre forme e titoli perché è stata sviluppata una versione ad hoc per le pagine Xiaomi dal titolo Aurora's White Thread, versione integrale ormai pronta e si parte con la prima tappa per iniziare il percorso di distribuzione che avrà questo documentario Roma, giovedì 18 luglio, dalle 18 alle 20, guarderemo assieme il film presso il cinema Intrastevere, Vicolo Moroni 3 e dopodiché seguirà un piccolo dibattito dove anche dal pubblico potrete intervenire con delle domande e scambiare un po' di opinioni non solo sul film, sul documentario in sé vi lascio la trama adesso a fine video, ma anche sul mondo delle nuove tecnologie applicate al cinema e nel nostro caso ovviamente si parlerà di smartphone assieme L'evento è promosso dalla rete degli spettatori, ente importantissimo che si occupa di promuovere il cinema indipendente che non riesce, fatica a trovare una distribuzione qui in Italia quindi seguiteli nelle loro pagine, vi lascio il link in descrizione se volete sostenere il mondo del cinema e sostenere me e il percorso del documentario fate questa piccola cosa, mi farete un favore enorme Per venire dovete prenotare il vostro posto, ragazzi è l'unico modo per avere accesso in sala l'ingresso è libero e gratuito, ma dovete prenotare qui sotto, c'è il link su Eventbrite mi raccomando, fatelo se siete sicuri, ma fatelo perché la sala è già mezza piena poi 30 posti sono riservati, mancano una sessantina di posti circa che si riempiranno abbastanza velocemente Per questo video è già tutto, a sto giro come sempre sostenetemi se vi va, seguendo il canale, mettendo like facendovi un giro sul sito dove trovate le LAT, i preset, eccetera pensati per il mondo degli smartphone e noi ci vediamo dal vivo, spero, a Roma e prossimamente sicuramente a Milano e poi speriamo in altre città Alla prossima Guarda che paesaggio È bello Finalmente ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati Allora, lei come carattere è autoritaria Reggiti, che mi sto reggendo Non siamo andate mai così, l'amore è d'accordo Se non ci fosse stata la malattia, non ci sarebbe stato questo riavvicinamento Vorrei che lei si ricordasse il maggior numero di queste parole Come è nato il desiderio dell'aurora? L'aurora boreale, come siamo finiti qua? Un bel pezzo, guarda che sto dicendo Io in qualche modo cercavo una strategia per comunicare con mia madre Lei si scorda tutto Come mi chiamo io, chi sono, i miei figli Ma ogni tanto mi diceva Non dobbiamo andare a vedere l'aurora boreale, noi?